Questa situazione l'avevamo già evidenziata anche nella Commissione ANCI nazionale, nel senso che ci sono regioni, e il Veneto è una di queste, che ha importantissimi flussi turistici, forse la prima regione d'Italia. Con la bella stagione si era detto, attenzione, almeno preservare comunque l'economia di un territorio, vista le grandi difficoltà che ci sono, e si era detto che doveva valere per tutte le regioni di prestare attenzione ai comuni turistici, era stato detto. Il governo però non ci ha mai ascoltato, accusa la Presidente dei Comuni Veneti, Maria Rosa Pavanello, il rischio per l'economia delle nostre città turistiche è un rischio reale. Non si può disattendere qualsiasi cosa, la sensazione è che manchino effettivamente delle soluzioni, che si è arrivati proprio ai numeri ingestibili, però adesso tutti insieme credo dovremo trovare un modo di intervenire con delle soluzioni pratiche. Vorremmo l'aiuto del governatore Luca Zaia, prosegue la Pavanello, anche se sappiamo che lui è contrario all'arrivo dei migranti. La sua è una posizione legittima, ma la regione non è in grado di fermare gli arrivi, quindi una soluzione va trovata tutti insieme. Siccome gli arrivi continuano ad esserci e continuano anche ad esserci in forma così a casaccio e lasciati in situazioni assolutamente ingestibili, che poi creano preoccupazioni ai cittadini, e siccome io so che il Presidente ci tiene comunque ai veniti e a tutti i cittadini veniti, bisognerà trovare un modo di agire e di dare comunque un aiuto ai comuni, che se no si trovano veramente di fronte a una situazione ingestibile.